Un incendio divampato nella strada di sabato 12 novembre, intorno alle 21, in via Arduino, angolo via Parigi a Cornier. Le fiamme, sviluppatesi probabilmente da una canna fumaria, hanno interessato il tetto di una parazzina a due piani e stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, Rivarolo Canavese, Volpiano e 118. Le fiamme stavano intaccando i tetti dell'abitazione vicine. Fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo e hanno domato l'incendio, procedendo poi con lo spegnimento e la messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto anche il sindaco Giovanna Cresto e i carabinieri della compagnia di Ivrea. Le cause dell'incendio sono al vaglio. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola. Grazie a tutti.